... Baby prostitute nella sala slotto, operazione dei carabinieri ad Avellino, che hanno arrestato tre persone, 12 le vittime accertate dai 14 ai 17 anni. Venivano concessi ai clienti per somme che andavano dai 10 ai 100 euro. In carcere il gestore settantenne di una sala giochi e due clienti fissi ai domiciliari. Movida violenta arriva alla linea dura, basta schiamazzi a Napoli. Nella notte tra sabato e domenica 21 mila euro di verbali dei vigili urbani. Nell'ordinanza sindacale stoppa gli alcolici e i minorenni e stretta su parcheggiatori abusivi, sosta vietata e occupazione del suolo pubblico senza licenza. Rilanciamo Napoli da Bagnoli e Vele, così il segretario del PD Matteo Renzi, in chiusura della conferenza programmatica Pietrarsa, il leader, loda il discorso di padre Loffredo e già lancia le liste elettorali, cerco storie di impegno. Fiume Sarno inquinato, in mille in piazza, hanno sfilato nell'agro nocerino sarnese. Per dire basta all'inquinamento del fiume, il sindaco di Nocera, Torquato, chiama la regione ultimatum di lega ambiente, il tempo sta scadendo. Mensa scolastica all'ira di De Magistris, in ritardo il servizio di refezione nelle scuole di Napoli, sindaco contestato, fatto di tutto e attacca le municipalità. Oggi si tinde i genitori a Palazzo San Giacomo. Acqua a pagamento nel cimitero, alla vigilia del Ponte dei Morti scoppia la polemica a Benevento. Nel cimitero è nata la prima fontanella a pagamento, 10 centesimi per 5 litri d'acqua, protestano i cittadini. Eccoci, buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale di 8 Channel. In apertura lo avete sentito dai nostri titoli, andiamo subito ad Avellino. Hanno scoperto un giro di prostituzione tutte minorenni e anche 14 anni che marinavano la scuola per andare a prostituirsi in una sala giochi del centro della città. Questa mattina l'operazione dei carabinieri, tre arresti. Ci racconta tutto Paola Iandolo. I carabinieri hanno scoperto un giro di baby prostituti ad Avellino, tre gli arresti eseguiti questa mattina all'alba. Si tratta di un settantenne, gestore di una sala giochi al centro città e due clienti fissi, un cinquantenne ed un ottantacinquenne. Le vittime accertate sono 12, tutte studentesse dai 14 ai 17 anni. L'attività dei carabinieri ha scoperto una brutta pagina della prostituzione minorile, ha detto il comandante provinciale dei carabinieri, Massimo Cagnazzo. Sostanzialmente una pagina nera per tutti, per chi è genitore, per chi è padre, per chi è madre. Ragazze, ragazzine, studentesse tra i 14 e i 17 anni, anche maggiorenni, ma l'età non fa la differenza. Il reato è molto grave, come dicevo prima in conferenza, sia per quello che riguarda il gestore, per la prostituzione minorile, gli atti sessuali e l'induzione alla prostituzione, ma è anche ancora più grave nei confronti di clienti che richiedevano prestazioni sessuali realizzate poi da studentesse e da minorenni, quindi da persone che non sono capaci di autodeterminarsi. Erano soggiocate anche psicologicamente da questo soggetto che con complimenti, con atteggiamenti vari e con la scusa di impiegarli all'interno del circolo per servire i tavoli, poi alla fine le faceva prostituire e le offriva ai clienti. I rapporti sessuali avvenivano all'interno del circolo, c'era una stanza che il gestore aveva dedicato proprio a questi rapporti in cui ovviamente riceve i clienti e gli offriva queste ragazze. Movida violenta a Napoli, arriva alla linea dura di comune e vigili urbani. Nel weekend elevate sanzioni per 21 mila euro. Sentiamo. La Polizia Municipale di Napoli fa le prove in vista dell'ordinanza del sindaco De Magistris che regolamenterà la Movida fracassona dal prossimo 7 novembre. Così sono stati molti i caschi bianchi messi in campo sabato notte, ad iniziare da Via Gniello Falcone e Bagnoli. Un piano dove ci sarà regolamentazione della Movida, dove si chiederanno comportamenti civili e rispettosi di chi abita nelle zone dove insiste la Movida. Pena, sanzioni molto dure. Sabato notte, la prima vera stretta. In tutto sono stati elevati 137 verbali per varie violazioni del codice della strada. In Via Merliani e Via Bernini, ad esempio, sono stati 7 i titolari di attività che sono stati multati per occupazione abusiva di suolo pubblico. Caschi bianchi a tutto campo, in varie zone e in varie operazioni, con multe che hanno accumulato circa 21.000 euro. Molta attività anche a Chiaia, dove sono state servite bevande alcoliche a dei minorenni, come nel caso di due bar in Vico Belle Donne. I locali sono stati segnalati alla polizia amministrativa e per loro c'è il rischio di chiusura per qualche giorno come sanzione aggiuntiva. Nella zona di Via Chiatamone, Santa Lucia, Riviera di Chiaia, Piazza San Nazaro e Mergellina, in zona Chalet, sono stati elevati 598 verbali per la sosta e 35 verbali a carico dei parcheggiatori abusivi. La politica, la conferenza programmatica del Partito Democratico a Pietrarsa, il discorso conclusivo di Renzi, ripartiamo da Napoli, dalla bonifica di Bagnoli e dall'abbattimento delle vele. E poi una frecciata ai signori delle tessere. Hai già in mente Renzi? Quali saranno le liste elettorali? Vediamo. Un appello all'unità della coalizione e un passaggio su Napoli. La chiusura della conferenza programmatica del PD a Pietrarsa ha lasciato molti spunti di riflessione, non solo tra i DEM. Renzi vuole costruire ponti, invoca lo spirito di squadra, non pone veti a sinistra, ma porte aperte anche al centro. E su questo passaggio si è registrato il particolare apprezzamento del governatore De Luca, che ha già avviato il dialogo con il centro in regione Campania. Le minoranze DEM incassano, il governo schierato applaude. Il discorso del leader PD dura circa un'ora. Comincia con lo sfondo di un tramonto da Cartolina su Napoli e finisce con un passaggio toccante sulla ginestra di Leopardi. Poi il discorso su Bagnoli e il rione Sanità. Due medaglie che Renzi si mette al petto. Portiamo l'orgoglio, come PD e come governo, di aver dato il via alla più grande opera di bonifica, quella su Bagnoli, mai concepita dopo vent'anni di immobilismo. E sulla rinascita del quartiere Sanità, Renzi cita le parole di padre Loffredo. Lui ci ha detto che trasformare uno spazio con le sue difficoltà in una comunità è possibile. Abbiamo visto a Nisi dall'incredibile capacità e la forza di costruire ponti di pace tra i ragazzi rinchiusi per i reati e le famiglie degli innocenti colpiti. E abbiamo l'orgoglio di sapere che le vele di Scampia verranno giù. L'ultimo riferimento, quasi a margine, è per le liste che verranno. Società civile, giovani, impegno nel sociale. Renzi conclude, stiamo cercando volti che abbiano storie di impegno e testimonianza. I signori delle tessere sono avvisati. I migliaia hanno sfilato nell'agro nocerino sarnese, non solo per dire basta all'inquinamento del fiume Sarno. In marcia associazioni, politici, tanta gente comune. Il sindaco di Nocera, Torquato, chiama la regione. Sentiamo. Begogna! Begogna! Questa città è una voglia! Begogna! Begogna! Questa città è una voglia! Era questo uno degli slogan più gettonati e ripetuti dalle migliaia di persone che sono scese in piazza a Nocera Inferiore. Tutte insieme per dire no ai veleni nel fiume Sarno e che mettono a rischio un'intera comunità. Il corteo, armato di fiocchetti verdi e mascherine, ha visto l'adesione di associazioni, cittadini ed esponenti politici ed istituzionali. 23 iniziative congiunte a cavallo di tre province, tra polemiche e timori, con una certezza. C'è ancora tempo per salvare un patrimonio ambientale che appartiene a tutta la regione. Io penso che le persone abbiano ragione, le persone in buona fede, la stragrande maggioranza, a lamentarsi di una situazione che è insostenibile e che noi condividiamo come essere insostenibile. Abbiamo spiegato, carte alla mano, le attività che abbiamo fatto. Resta il problema di fondo e sul problema di fondo, al di là di tante cose che si sentono dire, noi stiamo svolgendo un'attività di controllo, anche con un'esposizione in termini personali dal punto di vista delle responsabilità. 23 iniziative contemporaneamente non è un lavoro, un impegno da poco, ma testimonia la volontà comune di un intero territorio di dire basta, di dire basta alla cattiva gestione, di dire basta all'inquinamento di un fiume che dura da troppi anni. Un fiume che non è compromesso in maniera irreversibile. Lo sappiamo bene, in questo momento l'Egambiente sta realizzando la goletta dei fiumi, sul Sarno, sul Sele e sul Tusciano, e vengono fuori anche pezzi di fiumi straordinari che, come sanno, coloro che vivono qui. Torniamo a Napoli, il ritardo delle menze scolastiche, Dema contestato, fatto di tutto, ha detto il sindaco, che attacca le municipalità. Oggi si tinde i genitori arrabbiatissimi sotto il comune. Vediamo. Ad un mese dall'inizio della scuola, il servizio di refezione scolastica nelle scuole napoletane non è ancora partito. Il blocco della spesa, per non causare ulteriori danni al bilancio dopo i rilevi della Corte dei Conti, impone al comune di stringere la cinghia, tanto che l'ente ha chiesto ai genitori un contributo di 15 euro fisso. Incalzato da genitori infuriati e cittadini, il sindaco De Magistris si è infuriato, rimandando ai dirigenti delle municipalità la patata bollente. Sono loro che devono firmare le carte, ha dichiarato il sindaco. Chi non firmerà i documenti sulle gare se ne assume tutta la responsabilità. Adesso la firma finale, non la potremmo mettere noi, c'è una copertura giuridica, formale, istituzionale e politica, devono i presidenti di municipalità, come dire, illustrare queste cose ai direttori per facilitare la cosa. Domani abbiamo convocato una riunione dove ci stanno tutti i presidenti di municipalità e tutti i dirigenti dove diremo esattamente quello che sto dicendo. C'è tutto. Dal minuto dopo chi non lo fa si assume la responsabilità perché omettere diventa un reato. E intanto i ritardi accumulati scatenano la protesta dei genitori riuniti nella rete per il diritto al servizio di rifezione scolastica che hanno organizzato un sit-in di protesta davanti al comune di Napoli dove sarà anche inscenato il pranzo in piazza. Il sottosegretario del Basso De Caro inaugura la sua segreteria provinciale ad Avellino e rivendica un ruolo di forza nelle prossime amministrative del capoluogo irpino. Vogliamo avere il nostro candidato. Sentiamo. Nessuna sorpresa. Carmine Valentino, sindaco di Sant'Agata dei Goti, segretario oscente e candidato unico, è stato rieletto alla guida del PD Sanneta. Ieri il congresso provinciale del Partito Democratico di Benevento ha visto l'elezione dei nuovi vertici di federazione per il mandato 2017-2020. Presidente dell'Assemblea Provinciale Rossano Insogna, Fabio Solano, riconfermato tesoriere del PD provinciale e i componenti della nuova Commissione Provinciale di Garanzia sono Pietro Iadanza, Angela Iavarone, Leonardo Sacchetti, Giovanna Serino e Oreste Viola. Nel suo intervento il neosegretario Carmine Valentino ha sottolineato l'importanza della scelta dell'unità, segno di un partito maturo e pronto ad affrontare le sfide dei prossimi quattro anni. È un primo passo in un impegno che nei prossimi mesi ci vedrà tutti coinvolti in un processo di unità necessario, fondamentale, per rendere sempre di più ampia la platea dei partecipanti, ma anche essere inclusivi, riconoscendo sempre e comunque quelle che sono le diversità, dei contributi che ognuno vuole portare, quella grande forza e quella grande risorsa di un partito che proprio attraverso esperienze e culture diverse mette insieme la migliore parte di quella che è l'esperienza di centrosinistra e vuole sempre di più accogliere quelle che sono le sfide che ci vengono date per essere sempre di più forza di governo nei livelli locali e rinnovare il nostro impegno anche alla guida del paese. Al congresso il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti Umberto del Basso De Caro ha commentato l'elezione di Valentino e su Mastella non ha mancato una stoccata. Benevento ha detto oggi è ridotta a quartiere suburbano di Napoli, una città amministrata come fosse una proloco. E come avete potuto notare questa era l'intervista al neosegretario riconfermato, neosegretario del PD Valentino a Benevento e adesso vediamo invece il servizio di Angelo Giuliani sul De Basso De Caro che annuncia l'apertura di una segreteria ad Avellino. Vediamo. I decariani avranno un'espressione di riferimento come candidato sindaco alle amministrative di Avellino. Si legge questo tra le righe nelle parole del sottosegretario del Basso De Caro che oggi ha inaugurato la sede della sua segreteria particolare in città. Spero che non sia un punto di riferimento che si apre oggi e si chiude il 30 giugno 2018. Penso che debba rimanere un punto di riferimento per tutti. Le candidature per essere espressione del partito debbano tenere conto del pluralismo che questo partito connota. E ad Avellino mi pare che il gruppo degli amici che voi definite De Cariani, ma che io definisco amici democratici, sia di gran lunga quello di maggioranza relativa. Con buona pace di chi affermava di esserlo prima delle vicende congressuali ultime. Poi il sottosegretario riserva anche un passaggio sul PD cittadino e provinciale e il ruolo che svolgerà ancora il commissario Ermini. Penso che l'onorevole Ermini rimarrà commissario fino alle politiche e anche oltre le politiche, fino alle elezioni amministrative che riguardano molti comuni della provincia di Avellino, ma innanzitutto la città Capoluco. Poi dopo si farà il congresso. Intanto proprio i De Cariani sono stati tra i più critici verso le modalità della esternalizzazione del Teatro Gesualdo. L'opera di mediazione ha avuto il suo effetto e oggi in consiglio verrà ratificata l'intesa in maggioranza. Abbiamo avanzato delle ipotesi per migliorare l'offerta al mercato quindi con le due stagioni teatrali e quindi oggi dovremmo arrivare in aula appunto con questo provvedimento, con questo emendamento al testo originario che prevede appunto l'esternalizzazione per due stagioni teatrali. Enesima aggressione sul lungomare di Salerno durante una rissa tra egiziani è rimasta lievemente ferita una vigilessa. Il questore minimizza rischi del mestiere e invece il sindaco fa di nuovo appello al prefetto. Ancora un'aggressione ad un esponente delle forze di polizia sul lungomare di Salerno. Durante una rissa tra egiziani ad avere la peggio è stata una vigilessa intervenuta per sedare la rissa e ferita da una bottigliata. Due le persone arrestate, sindaco e questore, sul lungomare per rendersi conto di persona della situazione ed una certezza per la fascia tricolore le forze dell'ordine devono fare di più senza lasciare soli i vigili urbani. È intervenuta a sedare una lite tra egiziani e nel parapiglia ha preso qualche colpo. Fortunatamente niente di grave ma è la nostra amicizia, la nostra solidarietà alla gente. Chiederò al prefetto questa sera che il meccanismo delle pattuglie interforze sia realmente attivo. Molte volte sono i nostri uomini dell'evoluzione municipale a svolgere la funzione. Dal canto suo il questore Pasquale Enrico getta acqua sul fuoco delle polemiche. Non c'è un'emergenza criminalità sul lungomare. I controlli ci sono e si fa tutto quanto nelle possibilità delle forze dell'ordine. Noi siamo, ci siamo sul territorio e agiamo secondo le direttive del prefetto ma anche sulle mie direttive che attraverso il potere di ordinanza io trasmetto a tutte le forze dell'ordine. Non credo che serva un presidio fisso ma serve un monitoraggio costante da parte delle forze dell'ordine sul territorio e in particolare su quel territorio che probabilmente nei fini settimane diventa più appetibile per chi come gli extra comunitari vogliono vendere la propria merce. Intanto dal proprio profilo Facebook la vigilessa ferita ha scritto una lettera aperta al sindaco Enzo Napoli non riconosco più la mia città ha scritto sui social il maresciallo Stefania Greco è tempo di fare in modo che i salernitani possano ritornare a passeggiare sui viali del lungomare senza rischiare. Bisogna ripristinare ordine e sicurezza aggiunto ad esponente dei caschi bianchi. Siamo alla vigilia della ricorrenza per i defunti e nel cimitero di Benevento spunta la prima fontanella a pagamento. Chiaramente è scoppiata la protesta di molti cittadini. Sentiamo Alessandro Fallarino. L'acqua è un bene prezioso quindi non sprechiamola. Questa è la scritta che campeggia su una fontanella all'interno del cimitero di Benevento. Fin qui nulla di anormale se non fosse per la scritta successiva che informa che per l'erogazione si devono introdurre 10 centesimi all'interno dell'apposita gettoniera. Una novità, tra virgolette, introdotta dalla confraternita privata Ave Maria all'interno del cimitero comunale di Benevento e che sta suscitando polemiche tra i tanti che in questi giorni al ridosso della ricorrenza e al ricordo dei morti e della festa di ogni santi raggiungono il cimitero per pregare sulle tombe dei propri cari defunti. È la prima volta che la vedo e penso che se uno arriva qui senza i 10 centesimi insomma rimane un po' delusso. Magari diciamo è una spesa che potrebbe rientrare in un costo annuo sarebbe più funzionale. Non lo trovo per niente giusto anche perché poi a volte dobbiamo uscire fuori per prendere l'acqua e stamattina siamo rimasti proprio sorpresi. Mi ho preso condizia stamattina se per evitare i sprechi probabilmente è anche buono se per evitare i sprechi. Dalla confraternita invece spiegano che dopo decenni sono finalmente riusciti ad ottenere un allaccio dalla Geseisa che gestisce l'erogazione idrica e che in pochi giorni si era sprecato una gran quantità d'acqua. Ecco perché della decisione presa solo per sensibilizzare i cittadini e magari per un tempo limitato anche per far fronte alle incendi spese che la confraternita si trova ad affrontare per colpa di chi non paga l'obolo. Fiamme gialle e unità cinofile di Vallo della Lucania hanno effettuato dei controlli davanti a un locale notturno di Salerno dove si esibiva un noto DJ italiano. Durante i controlli i cani hanno fiutato la droga e sono stati sequestrati tre grammi e mezzo di marijuana un grammo e mezzo di ascici. I controlli sono proseguiti per tutta la notte e i militari delle fiamme gialle hanno sequestrato spinelli e altra droga al dettaglio. Ed ora parliamo della SLA la malattia degenerativa tutt'oggi incurabile che affligge oltre 6.000 italiani e 400.000 persone nel mondo riflettori puntati sulle difficoltà spesso burocratiche che si registrano nella nostra regione da Ariano Irpino la testimonianza toccante di un uomo dello sport affetto da questa terribile malattia. Sentiamo. Modalità organizzativa e sanitaria nel trattamento della SLA un incontro quello promosso a Ariano Irpino dal centro Minerva e Panadlon per sottolineare come questa terribile malattia colpisce frequentemente chi pratica lo sport la testimonianza toccante di Emilio Antonio Gambacorta da anni attivamente impegnato nella promozione sportiva. Questa malattia si diceva che era la malattia degli sportivi però purtroppo non è così perché oggi registriamo moltissimi casi a persone che non hanno fatto sport prima erano più gli uomini adesso anche le donne per cui c'è veramente da studiare molto e da portare avanti iniziative serie. Parla un esempio lei di chi non molla? io ho fatto una promessa a me stesso che fino a che il Signore mi darà forza per trovare avanti tutto quello che posso fare ma non dando per me ma per gli altri. Il problema è proprio questo non si riesce a capire bene da che cosa dipenda quindi se dovuto a fattori genetici ambientali una serie una commissione di queste cose probabilmente determina la malattia ma come ci spiegavano i ricercatori dell'università purtroppo è ancora tutto in divenire ci sono ancora troppe poche risposte e troppi problemi riguardo questa patologia è tutto per questa edizione in regia Aldo Fenizia grazie a voi per l'attenzione e vi lascio le previsioni del tempo arrivederci grazie a tutti a presto